Stasera ci troveremo alle 17.30 in piazza Le Ferrari, è la piazza delle grandi adunate di popolo della nostra città, è la piazza in cui questa città si può dire no ai terroristi nel momento in cui fu ucciso Guido Rosso, è la piazza in cui oggi questa città dirà che non sarà un ponte a piegarla e che ha voglia di ritornare a correre, a crescere, a lavorare. E' una istituzione locale rispetto a mitigare il disagio delle imprese e dei cittadini in questa città ogni giorno. Ognuno faccia il suo lavoro. Questo è un raccoglimento profondo, a noi si ricorda in quei minuti dove era, come vi è visto, si ricorda di quella polvere quando siamo arrivati qua, la confusione, il dolore dell'ordine, le camere operatorie, sono ricordi carichi veramente di significato, ma siamo qua anche per dire come lo saremo oggi in piazza Le Ferrari, ma siamo qua anche a Malta che tutto questo non può essere un danno perché questo è un protagelio delle imprese e che questo paese deve cambiare su questo protagelio sul modo di scherzo. Impossibile, come non mi vedi? Sì perché è che Genova non vuole aspettare un suo conto di questo, non so che dire. Non so? Non so? Non so? Che torni alla normalità. Grazie. Io sono qui, mi andavo di farmi qui che portano tutto questo, l'aiuto di tutti è il perfetto dell'istituzione della città e della regione in questo modo, lavorando in testa fuori, penso che non è volante. Grazie.